Noi ci aspettiamo che il Festival 2015 ricalchi il successo dell'edizione 2014. Partiamo dall'afflusso dei visitatori, 30.000 sono le persone che sono arrivate a Treviso nel weekend finale e quindi noi partiamo da quella cifra per cercare di migliorarci. 200 sono le vetrine che ogni anno andiamo a realizzare, anche quest'anno l'afflusso e la partecipazione di negozianti sarà intorno a quella cifra lì. 20 sono le mostre che portiamo in tutta la città, sono più di 100 gli autori che arrivano da tutta Europa per far sì che questa edizione sia altrettanto internazionale. Ci saranno 450 iscritti ai nostri workshop divisi tra bambini, ragazzi e adulti. Altri numeri interessanti sono quelli delle file che possono animare tutte le mostre tipo a Cada Noal, la mostra sul paese ospite è l'Olanda che ci contraddistingue quest'anno, sarà incentrata sui Paesi Bassi, il padiglione estero, la mostra sarà ospitata nel Palazzo Bombin, fondazione Benetton. Anche quest'anno ci aspettiamo di vedere le file fuori dal palazzo e di ricevere quel successo che ci aspettiamo.